Dal criminologo Cesare Lombroso al quale va ricondotta la teoria del delinquente nato secondo cui i criminali erano riconoscibili per anomalie somatiche o costituzionali tipiche del delinquente alle conquiste del mondo digitale. Il convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze, Giuridiche e Sociali dell'Università d'Annunzio ha rappresentato un appuntamento per conoscere e analizzare i più aggiornati metodi d'indagine. Perché la cosa importante che noi abbiamo messo a fuoco nei nostri gruppi di ricerca, il sottoscritto ad esempio parla già nel 2008 di investigazioni con un paradigma investigativo applicando le ISO 9001 nel 2008 come modello applicativo per la gestione. Questo significa per eliminare gli errori o a volte gli orrori investigativi. Siamo tristemente noti perché l'accedo ci condanna per detenzioni illegittime. Questo io non lo permetto, vorrei eliminarlo insomma. I nostri studenti studiano per professionalizzarsi e soprattutto per migliorare la qualità investigativa che noi offriamo come percorsi formativi. E non è solo l'evoluzione tecnologica ma la cultura ad aver compiuto la rivoluzione. Il fatto non è di poco conto, ha rimarcato Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e coautore insieme alla professoressa Anna Maria Giannini del libro Investigare 4.0. Eravamo abituati alle mafie che parlavano attraverso i pizzini e oggi le mafie parlano attraverso le piattaforme criptate e oggi se 30 anni fa o anche solo 10 anni fa immaginavamo di prendere un'ondranghetista nelle sue montagne in Calabria, oggi gli ultimi 40 latitanti di indrangheta sono stati catturati in giro per il mondo. Alcune tecnologie sono anche oggetto di un profondo dibattito, penso per esempio all'intelligenza artificiale, penso al riconoscimento facciale e quindi a questioni che non sono solo tecnico-scientifiche ma sono anche etiche. Quello che a me piace sempre sottolineare è che mai una tecnologia di per sé è espressione di violenza o di antidemocraticità, è l'uso che se ne fa.